ciao a tutti oggi vi farò vedere come si fa la scatolina è uno legami abbastanza semplice c'è una storia legata alle piegature quindi ve la racconterò mentre la piego allora un giorno i due fratelli corti ricevettero un invito sull'invito c'era scritto ci vediamo in centro i due fratelli corti andarono in centro ma non trovarono nessuno dall'altra parte della città i due fratelli lunghi ricevettero un invito sull'invito c'era scritto ci vediamo in centro i due fratelli lunghi andarono in centro ma non trovarono nessuno dall'altra parte della città i due fratelli corti andarono a fare una passeggiata in centro e trovarono un tendone cercarono di entrare di qua cercarono di entrare di qua ma non ci riuscirono cercarono di entrare di qua ma non ci riuscirono uno dei due pensò di provare ad entrare in centro ci provarono ed entrarono ecco qua la vostra scatolina se volete fare il coperchio la rifate la rifate e poi cercate di incastrarlo ciao a tutti da Tommaso ciao 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 ciao